Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa terza puntata di seguito, sto registrando dell'Aulistica, però oggi ho un po' la registrazione dell'Aulistica, poi mattino c'è un bel sole, più o meno, nel senso che ho una luci sparata in faccia, però c'è il sole, quindi posso mettere una bella webcam, non sempre la webcam notturna dell'Aulistica, lo so, lo so, lo so che dà fastidio, però ragazzi, registro la sera, non ci posso far nulla, non è che posso spararmi 18 milioni di luci, questa c'ho, e quella di quella mi accontento. E oggi finalmente andremo a fare una cosa bella, ah comunque qui ci ha droppato un po' di robaccia una Wither Witch, vedete una Wither Witch, sì, non so perché, ma è venuta una Wither Witch davanti a noi, in faccia proprio, e allora dobbiamo farci un po' di gold, ci serve il gold, ci serve il diamante, aspettate che ne ho due stack, ok, sì, scusatemi però, sapete sto un attimo facendo un po' di cose con Con i diamanti, e mi servirà anche sta roba. Allora, devo farmi i nostri cavi, i nostri cavi, più che altro i nostri tubi, tubi, sì, direi tubi sarebbe il termine migliore Della bellissima, fantastica Logistic Pipe. Mi serve Cobblestone, ok, che si fa con la Cobblestone, quindi si fa Cobblestone Pipe. Sì, ne avevo alcuni, però sticavo, li facciamolo di nuovo. Redstone Torch, che io ne ho un sacco perché, tipo, li ho fatti la scorsa volta, eccole qua, bam, così, in previsione del fatto che avrei fatto la Logistic E poi mi serve fare Logistic Adesso, Logistic Pipes, Pipes, Logistics Pipes Ai, Logistica, beh, non li fa, ok. Logistic Pipe, che si fanno in questo modo? Craftaggio, molto semplice, bisogna fare un paio di questi Facciamone soltanto 16, è soltanto 16, ho già spiegato un sacco di diamanti E tadan, eccoli qua. Basic Logistic Pipe. Vedete, Ulisse, allora, nella vecchia Logistic Pipe facevi tutto tranquillamente, non avevi problemi Piazzavi, quasi funzionava, ragazzi. Semplicemente piazzavi i Cobblestone Transport Pipe con i Logistic Pipe, in questo modo Guardate qua che belli adesso i Logistic, tanto fighi. Guardate se si coloravano, se guardate se erano funzionati bene oppure no Tutto a posto, ok. Va bene, sì, è giusto, così. Cioè, nel senso, ehi, ricordate bene, quindi bravi, state seguendo bene il canale Ok, nella nuova Logistic tutto cambia, ragazzi miei. Perché? Perché c'è una piccola cosetta che, in effetti, volevo da tanto tempo E che hanno aggiunto. E per farvelo vedere mi servirà il Fused Quartz, ovvero sì, perché devo farmi Andiamo un po' se si poteva fare così, si poteva fare, credo di sì, comunque. Con il Fused Quartz dovrei riuscire a craftarmi Oddio, non lo so, non so cosa siano, ragazzi, però lo scopriremo E, ok, dovrei riuscire a craftarmi questa roba. Ovvero, i, no, i Fluiduct, i normali Energy, no, Energy Fluiduct, no I Leitenduct, ok, si fanno con la Tin e il Fused Quartz, ok? Quindi mi serve della Tin e Fused Quartz per farmi questi cavi Ok, dove stanno? Non qui, forse qui li ho visti. Questi qua, però quelli trasparenti Perché trasparenti? Perché mi piace uno di più, solo per quello alla fine, non per chissà quale altro sfizio Ok, sei di questi. Cosa andremo a fare, ragazzi miei? Vi faccio vedere Bam, questo cavo, questo Sì, ragazzi miei, si unisce Questo significa che potremmo utilizzare questi e non Lo stanno, quelli di Cobblestone normalmente Per trasferire oggetti Oh, madonna mia, ragazzi Quante cose possiamo fare d'ora in poi Quindi, buono, 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 davvero Quindi, cosa mi servirà per tutto fare? Mi serviranno fare, ovviamente, i logistic migliorati Mi servono sicuramente i provider e altre cosette Allora, se ricordo bene, i crafting dovrebbero essere prima degli stessi Quindi ferro, mi serve un sacco di ferro Per farmi i chassis MK2 Che può contenere due moduli, ok? Perché la logistic va a moduli Vi spiegherò ogni modulo a che serve Allora, facciamo così Prima, facciamo un ibrido Perché così almeno sprechiamo poca roba Non facciamo i moduli perché i moduli sono fighi Però guardate come si craftano Hai bisogno di un sacco di roba Tipo, per esempio, bisogna fare la farm di roba Di cactus E sicuramente non lo voglio al momento Quindi, lasciamo stare i moduli Facciamo una cosa abbastanza carina Facciamo i c-provider Che si fanno in questo modo Con dei chipset Basic GTPi Per elton torch Quindi, easy proprio Dovrei avere due chipset qua Ok, quasi quasi ne faccio altri Facciamone... Va, quattro ancora Ottimo Quindi vai di energia Fammi altri cosetti E va bene E andiamoci a craftare la roba Dovrei riuscire a farla anche tranquillamente qui in crafting Credo di sì Forse No, bisogna forza Una crafting table Quindi torniamo un attimo alla nostra bella casetta Ottimo E ci facciamo Quindi tutto quanto Andiamo qua Facciamoci questo Ci facciamo questo Bene, servono tre Ok, quindi A beh, due Si deve scavare al momento Quindi due ci accontentiamo Ok Due provider E un request Il request si fa Con l'iron gear E un altro golden chipset Quindi Mi servirà altro iron gear Mi servirà altro iron Oddio, sto finendo l'iron Raga Questo è un problema grande Grande davvero Perché Davvero Abbiamo un paio di problemi E dobbiamo in qualche modo Fare roba Ok E Beh, quasi quasi Dai, giusto che ci siamo Facciamolo normalmente con gold Quindi uno di questo Ora non ho voglia di aspettare Cioè sì, in realtà Ok Che è utile Però sicuramente Se devo aspettare Poco importa Ormai buttiamo la roba Ci facciamo magari più roba In futuro Provider Request E normale Logistic pipe Ok Quindi tutto normale Mi serviranno un po' di item duct in più Io andrei a fare anche quelli opachi Tanto a fine loro poco importano Funzionano allo stesso modo Abbastanza bene Quindi opachi E quasi craftavano come In che modo Aspetta, fatemi ricordare Con il led in mezzo Ok, giusto Perché là si faceva il led E ossidiano invece E Facciamo così Un sacco di teeth Perfetto Quindi Bam Facciamoci questi cavi Ok Utilizzeremo la thermal Non la build craft Perché la build craft è retrotatata È troppo Troppo vecchia Sinceramente È carina Sì Ma Ehi È vecchiotta Quindi no Non si usa E quindi andiamo a fare roba Mi serviranno Ah, giusto Mi servirà fare un'altra cosetta anche Mi serviranno Dieci pezzi di Questi Ok E un pezzo Due pezzi di questi Ok Perché 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 devo fare una cosa molto importante Così devo farmi due dolly Bam Uno e due Perché Perché devo prendere Ah, pensate Ci sono Facciamo anche Tre, quattro Perché devo prendere Una e due chest Bam In questo modo Andiamo Il nostro macchinari Andiamo a posizionare Il nostro chest Nell'angolino Più in basso Marca vacca Qua Uno e due Ok E Tadam Abbiamo due chest qua Voi direte Vabbè Ce ne fai Due chest Niente per il momento Però Tra qualche minuto Ci serviranno Ci mettiamo dentro I nostri provider Qui sotto In questo modo Ok Quindi adesso Che succederà I provider che fanno Provvedono A vedere cosa c'è Nella chest Nel senso che Ehi C'è la roba Nella chest Loro provvedono A farmelo vedere E a dire Logistic pipe Ehi C'è roba Nelle chest Quindi tutto a posto Poi Cos'altro devo fare Devo fare in modo Che A me Arrivi La roba Fin lì Quindi dovrò fare Un'altra chest E Mi sa che mi conviene Tanto tornare a casa Veramente Allora facciamo così C'è un'altra chest Ci serve Molto Facile E Mi serve Ah merda C'avevo lì dentro Cioè in realtà Sono stupido Invece di andare A prendere la roba da qua Sono andato a casa Ce l'ho qui dentro Tipo Ok Mi servono Bah Mi serve un po' di roba Mi serve fare una cutting table Che ce la teniamo qua Che tanto va bene Ok In questo modo E ci facciamo E ci facciamo una bellissima Fantastica chest Ok Robiamo questa roba Ok Ci mettiamo uno di questo Ci mettiamo qua Un Qua un request Ok Merda Ho sbagliato Un request qui E qui dentro ci mettiamo invece Un item Allora Facciamo in questo modo Parliamo di cose importanti Ovviamente Allora Facciamo prima di tutto Un percorso Fatto di item Dacto Ok Poi sostituiamo Il logistic Dove serve Andiamo in Bat mode Aspettate Non così Ma in bat mode Perché così possiamo Girarcela meglio Qui sotto Perché è importante Ragazzi Andare tipo Un blocco solamente Possiamo metterci anche L'andrame piccolino Per il bat mode Mi piace di più Quindi Andiamo di bat mode Ehi All'altra parte Ok E dobbiamo arrivare Dall'altra parte Quindi bisogna fare così Bisogna fare In questo modo E arriviamo da questo lato Ok Ora dovremmo tipo Vedere i cavi Credo Della De nrio Abbiamo ovviamente Quando finisce sta roba Infatti vediamo Che siamo arrivati Perfetto Quindi così Oddio ho sbagliato In realtà questi cavi Sì in effetti Ho sbagliato Perché in realtà Li volevo comunque romperli Li volevo mettere magari Un po' più al dato Ehm Vediamo di posizionare In un altro pezzo Magari Qui dietro va Perché sono un po' Sono un po' Incombranti Sinceramente Ok Mettiamo qua Li mettiamo Così Perfetto Magari Non spreco Milioni di cavi E qui ci mettiamo La roba Facciamo questo modo Allora qui ovviamente Ci va un logistico Perché deve essere Un collegamento logistico Quindi logistic pipe Ok vedete si collega E il rosso Perché in realtà dice Ehi guarda È fatto male Il collegamento logistico È vero Perché in effetti È fatto male Poi ci mettiamo I nostri cavetti qua Questo modo Ah vero così Devo fare Allora In questo modo E iniziamo a far cose Allora Mettiamolo fin qui E poi si scende In questo modo Così Bam 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 Fino ad arrivare Ovviamente Al nostro Provider Pratico Un po' tutto Perfetto Mettiamo qua E vedete cosa succede Allora Questo è giusto Dice Guarda questo funziona Però questi sono rossi Ok Perché Perché Ogni volta che c'è Un cerchio C'è un cerchio Dove c'è una discesa Io devo posizionarci Un logistic Ok Quindi adesso abbiamo fatto Un paio di giri Abbiamo fatto Quindi dove abbiamo fatto i giri Ragazzi Dobbiamo posizionarci La logistic Quindi di lì Abbiamo fatto tutto a posto Di qui c'è un altro giro Quindi anche qui Per questo Devo fare così Così Ottimo E dovrebbe andar bene In teoria Sì Dovrebbe essere a posto Ok La logistic Dovrebbe funzionare Mi rimane solamente Da fare un'ultima cosa Ovvero fare Così Così magari E di qui mettiamo Un nostro piccolo request In questo modo Ok Tutto funziona alla perfezione Dovrebbe funzionare bene Il request in realtà Funziona Con la wrench Quindi farmi una wrench Dicevo Facciamo la wrench Ho fatto la wrench E guardate Quando clicco qui sopra Bam Roba a caso Ho tutti i materiali Possibili e immaginabili Potremmo sortarlo In modo ed Size O name Io direi Andiamo più del size Nel senso Ehi per roba ciò Prima si vede E possiamo addirittura Richiederlo Che ne so Voglio un item doctor Richiedi Uno solamente Bam Mi ha richiesto un item doctor Ora dovrebbe arrivare Ci mette un po' Perché ovviamente Questi sono lenti Però dovrebbe arrivare Vediamo un po' Dimmi dimmi che arriva Dimmi che non ho sbagliato nulla E dovrebbe arrivare In teoria In teoria si In pratica Bella domanda Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Non lo so E ha il fatto Che tutto è collegato bene Perché vedete Sono tutti colorati Quindi A posto Qui possiamo anche Switchare In altre cosette Dovrebbe comunque Essere arrivato Ci metterà un sacco Mi sa Non arriva Non arriva E dobbiamo capire Il problema Qual è Comunque abbiamo Ho collegato un altro Logistic pipe qua A lato Perché mancava In effetti Un logistic pipe E tutto Dovrebbe funzionare Abbastanza bene Quindi non capisco Perché non Non mi trasferisce La roba Dovremmo Tipo farla arrivare In qualche modo Vediamo un po' Ah è arrivato Ci mette un fracco Di tempo Perché questi item Dax sono lentissimi Quindi dobbiamo fare L'item dax più fighi Però come avete visto È arrivata la roba Quindi vediamo La cobblestone Per esempio Possiamo chiedere E non so Dammi uno stack Di cobblestone Quindi adesso Dovremo arrivare Dopo un po' Di tempo Un po' Di cobblestone Dopo un fracco Di tempo Vedete qua Deve scendere di qua Deve farsi Sto giro Qua deve essere Lentissima la roba Per arrivare E poi arriva Qui dentro Nella cesto Vi avevamo richiesto Però Come vedete Sono più fighi questi Che quelli Della Della build Per se sincero Cioè meglio questi Poi questi Non credo Si buggano O fanno Hanno problemi Come gli altri Ho visto passare Dalla cobblestone Guardate La cobblestone è passata qua Guardate qua Guardate che figa Guardate che bella Da vedere la cobblestone Che arriva È arrivato a stack di 16 E tadana Abbiamo cobblestone Qui dentro Quindi abbiamo fatto La richiesta E E Figo Figo un sacco Un sacco bello Da vedere Quindi GG A questa logistic pipe Che è ancora più figa Della precedente Tutto questo Sembra essere bello Sì Però è ancora lento Quindi dobbiamo sicuramente Aumentarlo E migliorarlo in futuro Però ovviamente Direi che va bene Perché così possiamo Già Mettere le ceste da una parte E richiedere la roba Da un'altra parte Quindi possiamo fare i crafting Di qui Senza dover fare Tutti i giri Chissà Immondi e fighi Poi possiamo mettere Additura un'altra chest Qui Sul lato Che smizza la roba a caso Utilizzando la renderio Lo facciamo nella prossima puntata Quindi tranquilli Lo faremo Ho bisogno di cibo Perché l'ho finito Ok Qui dovrebbe aver rifatto Altri tre golden chipset E credo che Per oggi Potrebbe essere tutto Quello che volevo mostrarvi Credo di sì Ok Direi che solo questo Può bastare in questo episodio È poco Lo so Però vi ho mostrato Una cosa particolare Di questa nuova introduzione Della logistic pipe Che devo dire Che è figata Pazzesca Ovviamente È una cosa particolare Sicuramente che dovranno aumentare Il prossimo episodio Sicuramente la velocità Come ho già detto Ma quella Possiamo o migliorarla Tramite i cavi della build Che fare i cavi gold Però Palle Ragazzi Abbiamo già visto un sacco di volte Oppure Come ho già detto Utilizzare Miglioramenti Della bellissima Fantastica Thermal Expansion Quindi Pensiamoci Vediamo un po' cosa fare Quindi vedremo un pochetto Cosa fare Ovviamente io farò Altri provider Adesso Metterò le altre chest Che ho qui Dall'altra Cioè tipo a casa mia Sotto Li porterò qui Quindi avremo finalmente Una zona un po' più carina Esteticamente E anche figa Con tanti macchinari Quindi va bene Ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Da Ulisse è tutto Ciao ciao E al prossimo video